di contapersone che dovrebbero cominciare a dare i primi dati per Carnevale. Un anno fa, alla vigilia di Carnevale, l'allora assessore al turismo Paola Mar annunciava l'esordio di contapersone per poter prevedere intasamenti e relative deviazioni su percorsi alternativi delle folle oceaniche che avrebbero stipato ogni metroquadro di Venezia. Tra le poche certezze portate dal covid, c'è che di contapersone questa volta non ci sarà bisogno, ma la temporanea mancanza di turisti non cancella una tradizione che dovrebbe essere rivolta innanzitutto ai veneziani, come hanno pensato alla Confartigianato. Abbiamo proposto alle categorie del mascheramento, gli artigiani maschereri e costumisti, di fare un mini catalogo di un mascheramento base, un tricorno, una maschera bauta o colombina e un mantello a prezzi stracciati in modo tale da consentire ai veneziani che si recano nei negozi con carte d'identità o i mob di mascherarsi e di andare mascherati al lavoro o anche dal biavarolo in qualsiasi posto, senza assembramenti e nel pieno rispetto delle norme anti-covid. Il direttore di Confartigianato Venezia, Gianni De Chechi, parla di un recupero del carnevale come era una volta. In fondo il carnevale è nato per i veneziani, per i bambini che giocano nei campielli. Domenica in piazza San Marco ci sarà un contest fotografico, quindi senza assembramenti, 50 persone non più. Abbiamo chiamato lo scatto della resilienza, quindi gli operatori del settore, le associazioni che hanno collaborato si incontreranno per scattare una foto del carnevale dei veneziani.